hanno mangiato i conigli e adesso sembrerebbero belli sono recintato appunto per i conigli vedi qui sono tanti conigli qua ma ne bastano due il colonnello ha comperato un aggeggio Giorgio costa 17 euro all'Erua Merlè che fino a 200 metri copre e i topino l'ha messo giù c'avevo i gigli di Sant'Antonio ma i gigli di Sant'Antonio li sono mangiati i conigli guarda eh anche i gigli si mangiano i topi si mangiano i gigli abbiamo visto un topo che stava mangiando ma loro li tagliano i conigli li tagliano vedi le foglie di un giglio quelle lunghe poi sono carciofi questi sono carciofi stanno partendo adesso li ho messi quest'anno quindi ci vuole tempo questi invece sono tutti i pomodori san marzano da salsa ok ti ringrazio tu come ti chiami? Antonio! an Agong livello san marzano da stronadi san marzano di mercola